buongiorno benvenuti a questa rassegna stampa dell'ultima rassegna stampa del duemilaventi chiudiamo così il quinto anno con un grande pubblico che ringrazio e a cui faccio tutti gli auguri per un anno migliore rispetto a quello del duemilaventi chiudiamo così il nostro duemilaventi lo bruciamo proprio come si usava eh il calendario bisognerebbe bruciarlo bruciarlo probabilmente produrremo un po' di due ma chi se ne frega anzi meglio eh il duemilaventuno si annuncia molto peggio almeno dal punto di vista politico e della ehm come posso dire della della dell'ipocrisia della stampa italiana rispetto al duemilaventi mettiamola così oggi ci sono delle cose sui giornali straordinarie riguardo alla conferenza stampa ieri del presidente del consiglio Conte la la eh conferenza stampa di fine anno prima considerazione la più incredibile è la gestione da parte del presidente dell'ordine giornalisti tal Verna Verna della conferenza stampa voi direte un dettaglio no non è un dettaglio perché ci sono due considerazioni da fare sulla conferenza stampa diciamo di dettaglio di ieri la prima riguarda il tono dei giornalisti il tono dei giornalisti non era più il tono di sei mesi fa tre mesi fa e non già per gli errori del governo che erano evidenti anche all'epoca cioè eh il tono dei giornalisti è che i giornalisti sono delle specie di mi ci metto anch'io eh dei termometri molto sensibili del potere romano e evidentemente hanno capito che il potere di Conte sta scemando e quindi fanno quelle domande che soltanto un po' di conferenze stampe fa nessuno faceva hanno un atteggiamento un po' più eh diciamo eh irrispettoso come giusto che sia da parte della stampa nei confronti del potere e altrettanto non si può però dire del presidente dell'ordine giornalisti che viene stigmatizzato nel suo ruolo finto super partes ma sostanzialmente stile eh Totò da Belpietro che sulla verità dice non lo conosco in quarantacinque anni di professione non ho mai letto una sua riga ma mi vergogno dice Belpietro di appartenere ad un ordine il cui rappresentante addirittura scrive Belpietro eh è quello che abbiamo visto ieri al tavolo del governo che ha fatto eh togliere il microfono alla collega Fusani che faceva delle domande al presidente del consiglio perché è esattamente quello che è avvenuto ieri nella eh lunghissima due ore e mezza conferenza stampa. Eh mh ero interessato di capire che cosa ne pensasse Giuliano Ferrara che negli ultimi giorni mi aveva affascinato per il suo no all'obbligatorietà e poi Ferrara è un uomo comunque di grande intelligenza e di grande scrittura. Mi credete che ehm non c'ho 45 anni di professione come Ferrara o come Belpietro ne ho un po' di meno ma leggo l'italiano leggo qualche libro io non ho capito un H di che cosa ha scritto eh Ferrara se non ehm questa straordinaria ehm locuzione della edizione eh c'è un edizione eh un bignami detto in francese cioè c'ha delle locuzioni straordinarie che mischia le lingue scrive in una lingua tutta sua Ferrara ma voi avete capito cosa ha scritto Ferrara? Incomprensibile. Basta poi guardare eh un paio di colonne più in là e leggete il pezzo di Capone che invece è straordinario e ve ne parlo tra poco. Eh riguardo alla conferenza stampa andiamo al dunque. Il unica cosa che ha detto è la roadmap come adesso si dice della possibile crisi che alcuni giornali credono essere fatta come la Repubblica perché Repubblica dice governo appeso ad un filo ehm invece gli altri giornali compreso il Corriere e compreso il giornale leggono la sfida di Conte a Renzi e il concetto è semplicemente questo e cioè che se un governo se un partito della maggioranza cioè quello di Renzi venisse meno per esempio facendo dimettere le proprie eh ministre beh insomma a quel punto allora il governo dovrebbe presentarsi in Parlamento e lì farsi sfiduciare eh da Renzi e e questa è una trappola come spiegano tutti quanti i giornali perché nessuno dei parlamentari ha la voglia di tornare a casa ma anche mai quelli di questa maggioranza che si trovano a ritornare a casa senza arte né parte e quindi in realtà eh dal punto di vista parlamentare è difficile che si faccia una crisi dal punto di vista del governo però come dice Massimo Franco oggi sul Corriere della Sera il governo sembra più che blindato arroccato è blindato perché non voglio andare a casa i parlamentari ma si arrocca il governo su non fare nulla come sta facendo in queste ore e diciamo che questa roba qui eh si svelerà completamente all'inizio di gennaio sarebbe interessante avere il quattro gennaio Renzi a Quarta Repubblica per capire che cosa ne pensa se questa crisi la fa davvero però a questo punto mi sembra che Renzi sia piuttosto intenzionato a farla secondo un retroscena della stampa dice Renzi ehm Conte non ha capito eh che non abbiamo niente da perdere dice Renzi dice così non abbiamo niente da perdere quindi evidentemente si immagina che non si vada alle elezioni se no avrebbe molto da perdere e e non voglio fare eh io voglio fare un governo dopo Conte o con un democratico o con Draghi questa è la tesi secondo i retroscenisti oggi del governo ehm oltre a questo ci sono dei sondaggi che sono abbastanza interessanti cioè sono delle proiezioni sulle culture Camere e Senato che saranno tagliate come sapete a quattrocento e duecento parlamentari beh insomma il titolo è ridicolo cioè ehm eh il centrodestra è in vantaggio è ridicolo non in questo ma perché dice che il centrodestra è in vantaggio ma che se PD e Movimento 5 Stelle si mettessero insieme si ridurrebbe lo scarto e grazie al cavolo è evidente che si riduce lo scarto il problema è capirlo di quanto comunque eh abbiamo detto che secondo le proiezioni di Pagnoncelli il il prossimo oggi se si votasse oggi motivo per il quale non si voterà mai credetemi non si voterà mai per queste proiezioni di Pagnoncelli per i quali peraltro Satelli d'Italia supera il Movimento 5 Stelle Forza Italia arriva al dieci per cento e la Lega che dicono che ha perso tanti consensi il primo partito col venticinque beh nella Camera alla Camera ci sarebbe una maggioranza di duecento ventidue per il centrodestra e cento ventitré cioè cento parlamentari in più per il centrodestra non è che vince stravince c'è uno scarto pazzesco al Senato avrebbero cento quindici voti centrodestra e cinquantotto il centrosinistra cioè sarebbe praticamente fatta per il centrodestra potrebbe fare quello che gli va e secondo voi vanno a vanno a votare vi ricordo che la Camera sarà fatta da quattrocento il Senato da duecento quindi cento quindici voti al Senato vuol dire quindici voti in più rispetto eh alla maggioranza se si unissero centrosinistra e Movimento Cinque Stelle le cose non cambierebbero di molto al Senato il scenderebbe a centonove la maggioranza ma superiore ai cento e ottantasette la minoranza e alla Camera duecentododici la maggioranza del centrodestra e centosessantotto la eh minoranza di centrosinistra e del Movimento Cinque Stelle questa è la fotografia ad oggi ed è il motivo molto semplice per il quale non si andrà a votare fidatevi di eh quello che di del buon senso più che del però eh faranno di tutto perché non si vada a votare nel frattempo quali sono le prospettive del duemila e ventuno per quello che dico il duemila e ventuno rischia di essere mostruoso oggi sono due cose che vi segnalo ci terremo forse un governo probabilmente ancora con speranza il quale oggi pensa di bene di dire che dopo la Befana dopo la Befana eh ci sarà ancora il coprifuoco perché toc toc voi anestetizzati dalla paura non vi rendete conto che stiamo ancora nel coprifuoco cioè alle dieci si torna a casa il coprifuoco dopo il sette gennaio non sarà soltanto che non riapriranno le piste da sci e compagnia cantante ma che bar e ristorante le diciotto verranno chiudere e noi stiamo assuefacendoci a questa realtà e il novanta per cento degli italiani che mi ascolta e si caga sotto pensasse che la sua vita è fatta in questa maniera ed è un pezzo straordinario oggi di veneziani che è dedicato esattamente a quelli che non la pensano come me e la pensano come speranza e come altri di cui vi parlerò tra poco aspettate perché ve lo e l'ho appuntato e vi voglio leggere il pezzo di veneziani oggi che è fantastico allora veneziani dice ehm è stato un anno schifoso abbiamo barattato la libertà con la sanità il lavoro con la salute la comunità con l'immunità la dignità con la sopravvivenza la famiglia con l'incolumità i diritti con la protezione e così continua un pezzo di veneziani che è dedicato a tutti quelli che pensano che stiamo facendo la cosa giusta cioè criticano anche un po il governo però dicono porro sei un irresponsabile vorrei segnalare a questi pagina 26 del corriere della sera che non avrà letto nessuno e probabilmente no io spero che qualcuno ci arrivi ed è la storia incredibile di una bambina di 12 anni questa ragazza di 12 anni va a scuola in Veneto mi sembra eh a San Donati Piave ma posso sbagliare e sostanzialmente abbraccia una sua ehm amichetta fuori da scuola fuori da scuola l'amichetta si mette ad urlare la ragazzina e pensava quella che l'aveva abbracciata che gli ha fatto male no si mette ad urlare perché è preoccupata dal covid e qui già iniziamo nella malattia mentale cioè una bambina che si mette a urlare perché è abbracciata vuol dire che siamo un paese morto morto il rischio è che il problema che bisognerebbe curare la bambina che urla non la bambina che abbraccia vi è chiaro io la penso così cioè da curare la bambina che urla perché è stata abbracciata cosa succede che la preside e i professori ehm ehm sospendono la bambina che si è permessa di abbracciare e nella risposta che danno presidi e vicepresidi eh tante volte si è comportata male per alcune volte ha tenuto un po' sotto la mascherina rispetto al naso ecco questa è la psicopolizia per cui noi ci stiamo abituando che una bambina che abbraccia un altro venga sospesa e noi facciamo zitti muti pippa questo è il nostro è la nostra condizione una bambina si abbraccia un'altra viene sospesa e siete tutti d'accordo perché è stata intrudente capito? Questo è il mondo che vogliamo lo dico a voi che contestate tanto le mie posizioni e non negazioniste ovviamente soltanto quattro qualche deficiente può pensare che siano negazioniste aperturiste mettiamola così nel frattempo eh in questo clima di speranza che dice non eh il coprifuoco non vi pensate che non ci sia la Morgese spiega cosa succederà oggi e domani ministro degli interni controlli severi per evitare i parti eh i parti eh vietati cioè vi rendete conto? Cioè ma neanche neanche proibizionismo perché il proibizionismo i parti ci potevano essere ci potevamo vedere oggi abbiamo la polizia che ci controllerà fare il suo mestiere polizia e carabinieri non fanno altro che fare il loro mestiere il problema non è loro ovviamente il problema è chi gli dà queste leggi dovranno controllare dove siete andati a quale veglione a che ora siete tornati ma voi vi rendete conto di che cosa ci stiamo abituando o sono soltanto io che penso che sia un mondo di pazzi nel frattempo mh stupenda la inchiesta di Arcuri perché il giornale unico del virus con Arcuri eh è sempre incinocchiato quando l'intervista e poi prende le veline in questo caso di Arcuri e di Rocco Casalino evidentemente come se nulla fosse la velina di ieri è che partata dal ovviamente dal come si chiama dal picchiatore di regime Travaglio oltre che da eh Corriere Repubblica Stampa da tutti i giornali e che ha preso delle siringhe Sherlock che costano il doppio costano più di quelle normali Arcuri ha preso queste siringhe perché in questa maniera c'era scritto ieri ci faceva risparmiare e come ci faceva risparmiare nella fialetta delle dosi di vaccino che comunque in Italia non sta arrivando in quella fialetta con quelle siringhe si poteva prendere una dosi in più invece che cinque sei dosi il che è fondamentale perché vuol dire ridurre del venti per cento il costo del vaccino e aumentare il numero di persone che vacciniamo che è la cosa che a me interessa e ieri tutti i giornali il picchiatore di regime continuano a dire che bravi grande Arcuri ci ha fatto risparmiare addirittura Arcuri ci ha fatto risparmiare oggi Capone fa toc toc va dall'agenzia del farmaco vede cosa succede nel resto del mondo chiama le case produttrici vi posso spiegare cosa dice in cinque righe un pezzo straordinario di Capone oggi sul foglio che a differenza di quello di Ferrara il pezzo di Capone è perfettamente comprensibile dice che qualsiasi siringa di precisione anche quelle che abbiamo comprato a metà del prezzo delle Sherlock beh qualsiasi siringa di precisione riesce a prendere la sesta dose e che non vuol dire assolutamente che hai pagato di più quelle c'è la sesta dose anche la siringa normale la prende basta che si di precisione che abbiamo preso e costa meno di quelle di Arcuri quindi quella di ieri era semplicemente una fake news portata da tutti i giornali che non hanno voluto verificare che si sono bevuti quello che dice Arcuri d'altronde io capisco che quando uno dice ai giornalisti se mi fai una domanda ti querelo i giornalisti cosa fanno invece di farsi le domande anche nel loro segreto delle redazioni si bevono tutto quello che dice Arcuri Arcuri che dice ai giornalisti se fate una domanda io vi querelo io se fossi in un giornalista non lo sono perché come dite voi sono un giornalaio che io considero un complimento a quei deficienti di troll che ci sono sulla zuppa di porro beh io che sono un giornalaio sapete che faccio quando alcuni mi dice una cosa la verifico tre volte proprio perché uno che non vuole ricevere le domande io le verifico sempre e questa minchiata che ha raccontato ieri a tutti i giornali oggi l'ha smentita grandissimo Luciano Capone vi consiglio di leggerla perché è molto chiaro quello che dice è tutta una balla quella che ci hanno detto nel frattempo gli inglesi vi ricordate l'economist l'economist ha fatto la copertina con uno scoglio e con una figura di un inglese con lo scudo diciamo con l'union check quindi uno scoglio in mezzo al mare però intanto lo scoglio in mezzo al mare oggi Wall Street Journal come tutti i giornali del mondo dicono che autorizza il vaccino AstraZeneca il vaccino Oxford AstraZeneca il loro vaccino come lo chiama il Daily Mail ne avranno 10 milioni di dosi al volo e si tratta del secondo grande obiettivo raggiunto ieri cioè la maggioranza parlamentare per la Brexit il vaccino inglese che è anche un po' italiano nel frattempo l'Europa questo vaccino non lo ha ancora autorizzato però ovviamente la Brexit è un disastro loro moriranno di fame sono uno scoglio in mezzo al mondo teniamoci le nostre regole della minchia che sono fatte con l'articolo 7 del codice di accordi del 18 giugno per cui l'Europa fa tanto la fenomena tutti quanti con le loro percentuali 13 14 12 per cento 8 per cento i tedeschi si prendono 30 milioni di dosi fuori dall'accordo questo è il concetto quelli sono strozzi gli inglesi perché se ne vanno via e autorizzano tutto quanto invece i tedeschi si prendono le loro milioni di dosi che ovviamente è lì nessuno grida all'Europa matrigna fantastico oggi il giornale di regime perché neanche neanche il popolo il secolo d'Italia non so come si chiamassero i giornali del fascismo anzi i giornali di Mussolini oggi c'è questa notizia vi giuro sul fatto quotidiano crisi aziendali ridotte del 30 per cento in attesa di aprile ma vi rendete conto c'è crisi aziendali l'idea che siano ridotte del 30 per cento cioè io penso che quelli del fatto ritengano i loro lettori dei perfetti cretivi può anche darsi io penso che la gente abbia un po di senno ma un lettore del fatto si legge crisi aziendali ridotte del 30 per cento in attesa di aprile ma secondo voi ma sono tutti con la canella al naso financo i lettori del fatto nel frattempo c'è un giornale di regime di questo tipo io non l'avevo ancora sentito Veltroni un po' sbertucciato diciamo così da Borgonovo oggi sulla verità se vi diverte il genere oggi ha scritto anche sul Corriere della Sera tra film interviste tv Borgonovo sostiene le dodici vite di Veltroni che vuole fare le dodici fatiche di Veltroni che vuole fare il presidente della Repubblica e a questo fine si mette così in evidenza eh sui vaccini eh l'ultima cosa i veri novax e il titolo eh della ehm della verità sarebbero Conte e Arcuri perché ci vogliono due anni per immunizzare tutti gli italiani secondo i calcoli che ha fatto il giornale di Belpietro allora domani non escono i giornali mi prendo anch'io un giorno di pausa non perché io faccia molto tardi questa sera come tutti voi la tristezza di questo capodanno che non si può festeggiare come vorremmo la tristezza di un 2020 che si chiude con la notizia per me incredibile di una bambina sospesa perché abbraccia una sua compagna di scuola fuori da scuola e la bambina che viene abbracciata urla questo dà il senso di quello che è avvenuto siamo terrorizzati siamo impauriti e accettiamo a questo a proposito Arcuri Conte il giornale unico del virus speranza che ci dice ci dice che ci sarà il coprifuoco è una roba che per me è terrorizzante lo sforzo che faremo l'augurio che faccio a tutti voi nel 2021 e cercare di liberarsi di questa paura e di questo terrore che ci rende schiavi tanti auguri grazie a tutti quanti voi che mi avete seguito numerosissimi questo è stato un anno dei record per il sito nicolaporro.it è stato l'anno dei record per la zuppa di porro e quindi io su questo vi saluto e vi ringrazio il grande augurio e rivedersi per pochi giorni con un'altra zuppa ciao